Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale! Oggi raga mi vedete con gli occhi già mezzi truccati Andremo a fare la base utilizzando i prodottini nuovi dell'ultimo video haul Per quanto riguarda fondotinta e corattore non ho nulla di nuovo Ma li andremo ad applicare con questi pennelli Che non ho mai utilizzato, quindi sono super curiosa di provarli Mi vado a mettere le spillette prima di tutto Ho già applicato un primer e vado ora con un correttore aranciato nella zona delle occhiaie Utilizzo il Super Size Conceal & Define di Revolution nella colorazione C11 Che non si vedrà probabilmente mai da lì, no, forse così un pochino sì Comunque la C11 Io la trovo perfetta per andare a correggere le mie occhiaie E credo che tra tutti questi pennelli quello migliore per andare a suomare il correttore sia questo come dimensione Allora le setane sono belle fitte Vi devo dire la verità, a me piacciono per andare a suomare i correttori Non mi sembra male per il momento Come correttore illuminante mi sono portata invece l'overachiver di Huda Beauty Questo sapete che è super mega coprente, già di suo, quindi voglio vedere che cosa ci salta fuori Direi che ci piace Ne vado ad aggiungere un filino nell'angolo roppo interno Perché non so se si vede ma qua mi si è un pochino tolto Cerco di non lasciarlo troppo in posa questo perché è super coprente e si setta anche abbastanza facilmente Andando con attenzione si riesce ad essere anche abbastanza precisi Beh raga devo dire che non è male come effetto Vado subito a fare questa parte prima che mi si settino i puntini Direi quindi è ora di passare al fondotinta perché così sembro un fantasmino Vado ad utilizzare le radioni e la colorazione rose 200 di Yves Rocher Inizio applicandone questa quantità Poi magari vediamo se c'è bisogno di aggiungerne E per sfumare vado ad utilizzare il più grosso Ma è comodissimo, sembra un po' di spalmarsi la pittura in faccia No è super strano però è anche molto comodo E devo dire il risultato niente male In realtà oddio da lì si vede un pochino lo stacco con il correttore Da qui no Sono andata ad aggiungere un pochino di prodotto dove c'era lo stacco Ho provato invece che a trascinarlo ho subito a tamponarlo E devo dire che l'effetto mi piace Ora vado a prenderne un altro un po' più piccolo Credo che utilizzerò questo che sarebbe quello appena più grosso di quello che ho utilizzato per il correttore A sto giro ho messo il fondotinta direttamente sul pennello E vado in questa zona qui Specialmente dove insomma con l'altro avrei fatto un pochino fatica Perché è una zona un po' piccolina Quasi mi stavo dimenticando Oglietto e labbra Vado a utilizzare questo di She Glam Nella profumazione barra colorazione maliblu Come vedete è super lucido Mi piace moltissimo Fa un bel effetto Passiamo ora al contour E se avete visto il video di settimana scorsa Saprete sicuramente che andrò ad utilizzare questa Ovvero la Fair Contour Palette di High Heart Revolution Questo è l'interno Io inizialmente dal sito credevo che questo fosse un illuminante opaco Invece è un illuminante standard Non andrò ad utilizzare perché andrò ad utilizzarne un altro Che sempre se avete visto il video sapete E voglio provare ad applicarlo con questo pennello Non lo so mi sembra veramente strano Proviamoci Siamo qui per provare insomma In realtà non so neanche che pigmentazione abbia questa palette Forse ne sto prendendo persino troppa Aiuto Diciamo che è netta Quello sicuro Ok per il contour avrei qualcosa da ridire Non penso che sia la cosa più comoda del mondo Quindi visto che vorrei anche provarli decentemente questi prodotti Andrò a sfumarlo con il mio pennello classico Alla fine non è neanche male Allora quindi questo pennello diciamo che va bene per posizionarlo Ma non per sfumarlo Per sfumarlo utilizziamo dell'altro Dall'altra parte voglio provare a utilizzare questo per sfumare Quindi applico con questo perché di qua non c'è bastato E sfumo con questo E' decisamente strano L'effetto da lì sembra anche decente No da vivo non troppo Alla fine continuando a sfumare non è neanche un effetto troppo tragico Con la combo di questi due Vado ora a utilizzare solamente questo Prelevo giusto poco prodotto E lo vado ad applicare nelle mie tempie Che sapete mi piace fare un po' di contour anche qua Comunque due parole anche sul prodotto Perché sto parlando praticamente solo dei pendelli Quando in realtà è una novità anche il prodotto Non si sfumano assolutamente male le polveri E' abbastanza fredda quindi va bene da contour Prodottino super chiacchierato Ultimamente sta veramente spopolando Freckle maker Ebbene sì raga Oggi andrò a fare le lentigini Io ho già settato la base Non so in realtà se questi prodotti E' meglio utilizzarli a base settata o non settata Credo non settata Quindi spero di non andare a creare un disastro Devo fare dei puntini Ma allora che strano E poi tamponarli Vabbè sembra che tipo in certi punti Si vada a sfumare Sarebbe carino questo come colore da blush in realtà Vado a portarli anche un po' più su Per un effetto più tra moltissime virgolette naturale Oddio raga Che strano Cioè mi sembra tipo di avere la base rovinata E' veramente strana come situa Io direi di passare agli altri prodotti Come blush andrò ad applicare questi di Shane Questi sono i colori E credo che con il look di oggi Andrò ad applicare un po' un mix di questi due Ok Pigmentazione Direi che c'è Proviamo ad andare ad attenuare la situa con questo L'effetto che fanno questi pennelli E' di qualcosa di blurato Voglio provare ad andare con un pennello ampio da sfumatura Ma non eccessivamente morbido Ad attenuare un po' questa zona Che dite si percepisce che sono Completamente fuori dalla mia comfort zone? Cioè sono in quella situazione Che non capisco se dovrei aggiungerne di più In questa zona Per far risultare il tutto un po' più naturale Se dovrei toglierne Passiamo nel frattempo all'illuminante Che andrò ad utilizzare questo Il formaggio di Revolution Raga è bellissimo Questo pack Con tutti i buchi in 3D E' stupendo E visto che non c'è un pennello da illuminante Nel set Vado ad utilizzare il mio solito Ovvero Spectrum A33 A33 Collezionello Kitty Non so quale dei due andare a utilizzare Sono un po' più propensa Per quello un po' più chiaro Ma li vado un attimo a swatchare Questo è quello più chiaro Sembra anche molto bello E questo è quello più scuro Che non è troppo scuro Diciamo che è un po' più rosato Andrei comunque Sì di quello un pochino più chiaro Wow Assolutamente niente male L'avevo presa questa palettina Più che altro da collezione Essendo che amo i topini E tutto ciò che li riguarda Però devo dire che anche come prodotto Non è assolutamente male Anzi Credo che la utilizzerò anche Sapete che vi dico Vado a metterne anche sul naso Considerazioni finali Su tutti questi prodottini Innanzitutto Olietto labbra Super approvato Come vi avevo già detto Nel video di settimana scorsa Ho già provato quello verde E mi era piaciuto un sacco Questo è uguale Cambio solamente la profumazione Palettina blush Super pigmentati Raga Attenzione che sono super pigmentati Palettina contour Illuminante Molto bellina Anche questa Ottima sfumabilità Palettina al formaggio Degli illuminanti Anche questa Super approvata Vi devo dire Lascia un glow Molto naturale Sapete Non è la mia formulazione preferita Perché a mio gusto personale Mi piacciono di più Gli illuminanti glitterati Però so che tantissimi Preferiscono Questi più naturali E questo devo dire Che è veramente ottimo E in più ha un pack super carino Quindi perché mai lasciarselo sfuggire Altra novità provata oggi Eyeliner Per le lentigini Comunque Freckle maker Raga Non capisco se mi piacciono O meno Mi sembra tipo Di non aver coperto E invece sono state fatte apposta Quindi non lo so Fatemi sapere nei commentini Che cosa ne pensate E assolutamente Pennelli Questi sono da provare Secondo me A me è piaciuto tantissimo Quello del correttore Perché trovo che lo abbia sfumato Veramente bene E anche quello del fondo tinta Mi è piaciuto un sacco L'applicazione Con quel pennello In più il prodotto Si può sia trascinare Che picchettare E diventa veramente Super coprente Un po' strano Questo per il contour Però c'è da dire Che in combo con l'altro Non è male Dai La situa comunque Ci sta Quindi nulla raga Siamo giunti alla fine Di questo video Vi vado a togliere Le spillette Fatemi sapere Qual è stato il prodottino Novità Che più vi spira Tra tutti questi Io vi ringrazio tantissimo Per essere stati con me Fino alla fine di questo video Come al solito Vi ricordo di dare un'occhiata giù Nell'info box Perché lì troverete Tutti quanti I miei link Per andare a seguirmi Anche sugli altri miei social Io vi mando un mega bacione E noi ci vediamo Settimana prossima Con un nuovissimo video Ciao Ciao